Ciao a tutti, sono Desi, una volontaria della pubblica assistenza sul Sesto San Giovanni e mi occupo di raccolta fondi. Le raccolte fondi sono di diversi tipi, da quelle online a quelle svolte sul territorio a diretto contatto con i cittadini. La riduzione di una raccolta fondi prevede diversi passaggi, dalla richiesta dei permessi per poterli effettuare, alla ricerca di personale volontario per poterla realizzare. Per partecipare alla raccolta fondi non è necessario essere un succuritore certificato 118, l'importante è essere scritto come volontario nella nostra associazione. Grazie a tutti.